Sono Raffaele Montagna, contitolare di Original Armenia, che è il primo operatore in coming, ovviamente un operator in coming in Armenia, che ha ideato un viaggio riservato esclusivamente a ipo e non vedenti, cercando di declinare l'itinerario con tutta una serie di diverse amenità, cioè cercando di far scoprire, di far gustare ai partecipanti con tutti gli altri sensi, il territorio, la gente, i cibi e quant'altro. Grazie a tutti.